ebbene carissimi amici appuntamento insieme sul mio canale youtube ancora una volta a parlare di software ancora una volta parliamo di vincite parliamo in particolare ancora una volta di un terno secco a ruota secca vinto dai miei software e in particolare ancora protagonista per l'ennesima volta il bellissimo e potente software spia magica un software che non deve assolutamente mancare nella vostra collezione un prodotto che tutti dovrebbero avere per giocare all'otto perché è una macchina da guerra nel vero senso della parola guardate cosa ha combinato il software nell'estrazione del 5 di gennaio questa era la previsione milano ambata 46 software gioca 8 ambi secchi su singola ruota più due abbinamenti da abbinare a rotazione per il termo prima ha pagato l'ambata ultimo colpo poi al quarto colpo ha pagato l'estratto determinato in quarta posizione lambo secco 46 79 e il termo secco 46 79 72 a milano al quarto colpo ovviamente alle ambi in terzine perché se uscito poi il termo secco sono uscite anche le ambi in terzina questo è un grandissimo esito un altro grande esito da questo software cari amici io vi consiglio l'acquisizione di questo software perché veramente molto potente guardate le estrazioni del 5 46 79 72 proprio il termo secco indicato dal software se noi andiamo a fare un po di statistica di spia magica vediamo per esempio da gennaio 2018 notiamo che il software ha una percentuale del 72 per cento quindi su 99 proiezioni giocabili 26 negativi abbiamo vinto due terni 28 ambi a ruota 131 ambi in terzina 31 estrati terminate 68 ambate vediamo per esempio dal 2017 dal 2017 abbiamo una percentuale del 78 con 23 terni vinti quindi capite bene che vincere 23 terni in due anni non è cosa da poco 79 stati determinati 148 ambi a ruota e vedete che gli esiti si presentano tutti più o meno entro il sesto colpo quindi cosa molto importante questo è un software cari amici che vi consiglio caldamente perché è un software che vince alla grande vince ambi vince terni e in descrizione troverete il link per scaricarvi il programma io ho voluto questo giro per testimoniarvi proprio un'altra vincita di terno secco terno secco reale perché lo vedete qui il software la elabora prima la previsione dell'estrazione non dopo la vincita 46 79 con l'abbinamento 72 troverete il link in descrizione per scaricarvi il programma qui avete già gratuitamente la versione ambata l'estratto determinato poi contattatevi in privato per sapere come acquisire il programma e avere il codice di attivazione per avere poi lo sblocco del programma per ambo e terni per adesso di saluto a tutti mister sbancolotto ciao 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 ciao